Spidi Pollo a Cava dei Tirreni è il luogo ideale per soddisfare tutti i gusti. Vi aspettiamo! Sul calciomercato di riparazione la Cavese è ancora attiva e potrebbe concretizzare qualche movimento in entrata già nelle prossime ore se non ci saranno ostacoli. Oppure può riuscire a farlo giusto in tempo per la partita con la Vibonese che si disputerà domenica. Secondo quanto riferisce la stampa veneta, il centrocampista Federico Scoppa, che era impiegato col contagocce al Vicenza, avrebbe scelto proprio la società metelliana per proseguire la sua stagione, ma occorrerebbe convincere lo stesso Vicenza a liberare il giocatore argentino. E il centrocampista di regia è proprio quel tipo di giocatore di cui la Cavese avrebbe assolutamente bisogno, secondo mister Campilongo, per poter migliorare il proprio organico. Oltre all'esterno destro, che è un altro ruolo dove i bianco-blu hanno esigenza. Sulla corsia laterale, dove prima operava Tazza, passato al Bisceglie, la Cavese potrebbe provare a prendere Mirko Esposito, che ha 24 anni e milita col Mantova. Tra i due club si sarebbe parlato di questo ipotetico trasferimento, ma si sarebbe discusso anche di inserire nella trattativa il portiere Luca Bisogno, che passerebbe in Lombardia, per cui il club Aquilotto avrebbe ricontattato il Pisa per il portiere Matteo Kucic, il quale darebbe l'assenso per il suo ritorno a Cava dei Tirreni. Ad ogni modo, il direttore sportivo dei Bianco-Blu, Francesco Lamazza, intervenuto martedì sera nel corso della nostra trasmissione Aquilotti Social Club, ha dichiarato che c'è da intervenire anche per la difesa, a causa dell'infortunio che costringerà Andrea De Vito almeno a un mese di stop, contattata la Triestina per Francesco Cernuto. Ma il direttore non ambisce solo a un difensore. «Spero di prendere due attaccanti», ha detto Lamazza. E certo, se dovesse andare via Germinale, che ha richieste da diversi club del nord, occorrerebbe sostituire lui, oltre a prendere quel pilastro, quel centravanti di alta statura, immarcabile nel gioco aereo, che farebbe fare il salto di qualità alla Cavese. I due nomi ultimamente circolati per la prima linea sono quelli di Fabio Mazzeo ed Elia Bortoluz, rispettivamente sotto contratto con Livorno e Pergolettese. Al 13, la casertana è andata a vincere ieri nella gara di recupero di Bisceglie, 1-0 contro il Bisceglie di Mr. Bucaro, per effetto della rete segnata da Cuppone, grande ex di quell'incontro. In questa maniera i Falchetti, che hanno ancora una gara da recuperare contro la Juve Stabia, si sono tirati fuori dalla zona play-out e vincendo quella gara prevista mercoledì prossimo potrebbero permettersi di mirare più in alto anche del centro classifica. E mercoledì 27 ci sarà anche la prosecuzione dell'incontro fra Catanzaro e Viterbese, che fu sospeso per nebbia sul parziale di 0-0. Ci saranno da giocare ancora 40 minuti.